aroani damose una mossa dai c'è stata lì sotto le firme ancora lì sai e fate una tartina e prendete la gommota no? ti c'è un po' di advertising facebook youtube instagram google non sarai mica uno di quelli che va solo su facebook per vedere se la ragazzina da amichetto tua spenta le cannelline ancora aggiornate eh dai ma come si faceva una volta la comunicazione come si faceva una volta se va ancora adesso ho cambiato i tempi bisogna capir che cosa va adesso basta punto per avere il ritorno che vi interessa il nostro stallo è il vostro stallo ammesso che noi stiamo fermi ma ancora lì siete? contattatrici eh? Tronix software film e qui mi lancio la la giovanò ha fatto proprio bene a metterci alla faccia è il nostro canale il nostro canale di fare